ciao a tutti eccoci qua allora purtroppo come avete visto dal precedente video sono ancora in D3 e niente quindi ho deciso appunto di rifarla sperando poi diciamo in un erito finale diverso magari positivo quindi niente andiamo a giocare guardiamo un po' come andranno le cose speriamo di iniziare nei migliori dei modi è vero vincendo vediamo un po' il prossimo avversario chi sarà e come verrà ecco vediamo come di casa primo avversario e inoltre vediamo un po' la formazione anzi la squadra la rotazione 84 bene si comincia un misto di lega si misto di lega un misto di lega che lega insomma lega spagnola attività 100 e vediamo un po' come andrà speriamo bene mamma mia molto male molto male e la casetta la casetta mamma non è tiro ecco non è zero a morisci non è sensuale dopo 16 minuti ma Pogba nooo per caso nooo 2 a 0 per caso però perchè non è che lui si è reso tantissimo pericoloso Eccolo lì, Devo Costa, 2 a 1, andiamo, andiamo, dai ragazzi, crediamoci, proviamoci, eh, 3 a 1, per caso, per caso però, ormai è andata, anche trovandosi, insomma, finisce così, purtroppo, 3 a 1, iniziamo male, e niente, il peccato è che comunque, secondo me, questa lì potrebbe essere una partita fattibile, magari non tanto per la vittoria, però un pareggio alla fine, credo che, non dire che non meritassi, però, diciamo che alla fine venire da fuori, è anche avulgato qualcosa, tanto per capirci, comunque, purtroppo è nata così, invece, prima partita, 3 a 1, insomma, si inizia male, vabbè, dai, buttiamoci giù, è sempre lunga cosa, andiamo a fare la seconda, seconda partita, ancora una volta, fuori casa, vabbè, tanto, cambia poco alla fine, eh, allora, vediamo un po' la formazione, serie A, misto, sì, misto serie A, valutazione 82, anche lui è intesa 100, ora che ho visto c'è ha Courtois in porta, non ti so cosa c'era un vino, però, dato che comunque, alla fine, l'intesa è male 100, ha fatto bene, dato che Courtois è un cineoportiere, anche a FIFA, mamma mia, mamma mia, rosso, che che, dai, per davvero, rosso, dio sì, cioè, sembra che era un fallo, vabbè, addirittura rosso, dai, che cazzo, la gioia in 10, buona, va Alexander, no, ma che tiro è, cioè, ma che tiro ha fatto, tira, oh, questo è un tiro di, la casetta, 1 a 0, 26esimo, e andiamo, ecco, pareggiava subito, Barbo, 1 a 1, guarda che costa, no, buona, 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 buona la casetta, vai la casetta, cora, no, ma come rigori, dai, presa, grandi Diego Lopez, oh, eh, eh, salta, 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 oh, 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 dai, ma che culo, dai, ma questo è culo, che palle, 2 a 1, ti ha il Muriel, vai, però, vai, Diego, no, Diego Costa, e che cazzo, e che cazzo, ti sento, comunque, l'assenza di nuovo in difesa, che palle, 3 a 1, i turbi, dai, 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 ma che cazzo, ma che cazzo, che palle, voglia di, è, e, ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo, ma, ma di merda, ma madonna, è proprio iniziosa a dirlo, di, che palle, 5 a 2, i galli, mi sono sì, 5 a 2, seconda sconfitta consecutiva, di merda, madonna, ragazzi, che non voglia, mi passa la voglia, di gioarci, ve lo giuro, che palle, no, porca troia, buona, è buona, bacalitos, no, vai, 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 testa, no, buon tempo, non vuole entrare, ragazzi, tira, no, ahioi, ah, ma è andato, beh, andiamo un po', ma dai, ma che go, non è possibile, ma è possibile, ma come ho fatto, ma perché dovevo prendere, così, non mi riesci a riuscire a far go, tutto, ma perché, che cazzo, è il primo tiro che fa, go di merda, Davide, ciurlo, vai, 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 no, ricorre, finalmente, per cosa a favore, non ho regalietto, lo faccio, aspettiamo, oh, meno male, guarda, non ce la fossi fuori, mamma mia, cioè, me l'avessi parata, 1 a 1, che andremo, boh, che facilmente, anche questi rigori di, che ansia, un altro rigore, adesso un tosso e cielo, non è male a favore mio, ma, sinceramente un tosso e cielo, vabbè, comunque, andiamo a batte, e risperiamo di far go, ora me l'avessi parata, lei, classico, lei, no, 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 non è male, vai, ma dai, ma che cazzo, ma non tarda nessuno a portare fermo, 2 a 1, stava in rigida il cazzo, tolta da sempre con lui, che palle, tira il barbo, no, perché, eccolo, i barbo, 2 a 2, andiamo, te, no, non lo vuoi, tutte le volte, non prende il go, appena lo faccio, sempre prende il go, ma ne vietta, la miseria, ne, te, 3 a 3, e andiamo, cazzo, boia di, no, 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 lavane, lavane, no, le vattene, e via, finisce così, 3 a 3, tutti i persi, anche i vesti, vecchiera fattibile, ma c'è un, cazzo di merda, maledetta, misereani, non mi piace, se volgari, ma mi ci porta, mi ci porta, mi ci fa un cazzà, che palle, ma dimmi te, 3 partite, un punto, ragazzi, ma che io non ci salva, nemmeno, questa volta, vì, quarta partita, ritroviamoci, speriamo bene, almeno, questa volta, vì, andiamo un po', andiamo un po', cosa, che formazione, c'è, 86, fattibilissimo, sempre, vai, cos'è, misto fra, Bundesliga e la Premier, sì, di da 100, vabbè, 1 a 0, tenuti, diciamo dopo 3 minuti, calmissimi, non a staccare, no, va bene, va bene, sì, va bene, vai, boh, tira Tevitz, eccolo boh, ce l'ha ribadito di, e che gol, e che gol Carlitos, 2 a 0, il 28esimo, ma è Tevitz, no, che coglione, sono stato, bella palla, dov'è, no, dai, tira, che cazzo, se è fallo, palla, è vero, vedi, il biglietto, il caso mio, il cerchio, fa la scivolata, poi lo tiravo, e poi mi fa fallo, e poi mi dava, anche il giallo, tutto tutto, intelligenza artificiale, del cazzo, buona, vai Carlitos, vai Carlitos, è roba tua, vai, Eccolo lì, Tevitz, tripletta, 3 a 0, ma mia, attenzione, da lontano Lewandowski, bella palla di Byrby, per Tevitz, vai Carlitos, vai, buone, 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 Tevitz, pocket, che culo, eh lo dio, c'è avuto tanto culo, si slancia soprattutto, quello di Barbo, poi sul Tevitz, che ha scattato difensori, insomma, però vabbè, 4 a 0, ogni tanto, un po' di culo, ce lo posso, e anche io, eh oh, doveva far, prima o poi, diciamo che, comunque, vabbè, Lewandowski, 4 a 1, diciamo che, anche se sono stato più pericoloso io, ogni tanto, anche lui, qualcosa ha fatto, e, è giusto, così, cioè, che l'abbia fatto, giusto, sì, è sì, corretto, no, c'è Valevandowski appunto, 4 a 1, aiò, 4 a 2, che culo, eh, bisogna dirlo, company comunque, finisce così, c'è due voli, ho vinto, non una partita, dopo, due o tre partite, ho fatto, i primi tre punti, ai primi tre, via, la prima vittoria, insomma, meno male, diciamo che, forse ho avuto, un po' di fortuna più di lui, però, credo che la finesse è giusto, che abbia vinto io, cioè, che il puntito, la finesse è giusto io, nonostante tutto, niente, quindi, diciamo, sono 4 punti, 4 partite, bello, deve essere a 12, vabbè, comunque, andiamo a fare, l'ultima partita, di questo video, eccolo qua, ultimo avversario, deciso, vai, così, vai, 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 ti ha deciso, ultimo avversario, di, appunto, di questo video qua, valutazione 85, ancora, per l'ennesima volta, Bundesliga, perché, evidentemente, il campionato, diciamo, quello, che appunto, tiene i giocatori, un po' più forti, anche a livello di qualità, la squadra decisamente forte, soprattutto, quello vino a destra, chiamato Robber, comunque, vedremo un po' come andrà la partita, speriamo bene, i miei, nello sento, eccolo, dopo 4 minuti, non è serio, che palle, che ha così, che ha fatto, non ti fa vedere, che è così, me la fia, e andiamo, e fatti, tira Bubba, no, tira, eccolo, quadrado, riquilibra subito le cose, ma mi fa cacchio, si, sul tante di ragazzi, comunque, dopo 8 minuti, quadrado, 1 a 1, vai Tevitz, vai Tevitz, tira Tevitz, no, vai con Ko, no, che caso, e crossa la, no, rigore, rigore, non so perché, ma è rigore, va a vedere, bello, se ne fa, dai, non c'è un cazzo, vabbè, non so perché, mi voglio, mi voglio, vabbè, da Carlitos, non mi rialudo, vabbè, spiega bene, uuuuuh, eccolo, Tevitz, 2 a 1, al 26esimo, mamma mia polla, qua ha scoppiato il palo, vai Sharaoui, vai quadrato, eccolo, no, fuori ciò, maledetta la miseria, vai Tevitz, Tevitz, 3 a 1, e andiamo te, vai, 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 vai Barbo, vai Barbo, Vittorio, vabbè, Vittorio, il Barbo, non è proprio Vittorio, ragazzi, l'ho sempre chiamato Vittorio, chiamerò Vittorio, 4 a 1, come rigore, dai, ma questo è tirato questo palla, era un contratto tranquillo, vai, che rigore è ragazzi, dai, Roisa la battuta, ce la farei il nostro amico Diego Lopez a farela? No? Nulla, 4 a 2, Roisa, punto, al 65esimo, sempre lunga, purtroppo, vai Carlitos, vai, no, Sirio Bono, dire, va, 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 mira, eccolo, fortunoso, eh, però alla fine, come conta, Fago, e alla fine appunto, un po' di culo, non fa mai male, 5 a 2, sempre Carlo Stevitz, boia, anche questo, comunque è fortunoso, perché devo vincolarti la parola, lui ha sui piedi, comunque, 5 a 3, Aubameyang, 73esimo, parte a parte, sempre lunga, e, questo fa lo vede, è rossa, mi prima me l'ha data, con Bazzal, quando ero di parte fa, per parte fa, tatti, la, rossa, ciao, l'am, come mi fa, va, vinco, oh, eh, 6 a 3, ma io, ma quella sa perché, chiusa, vabbè, speriamo, finisce così, 6 a 3, vittoria più che meritata, direi, niente, oltre, vabbè, fine partita, finisce anche il video, appunto, e, c'era tutta la partita del video, e, niente, dispiace, perché abbiamo buttato, via qualche punto, nelle prime partite, non male, poi le ultime due, invece ho vinto, quindi siamo un po' rifatti, e, e niente, e, detto questo, appunto, ci rivediamo, nel prossimo episodio, dove, anzi, nel quale, spero, di poter continuare così, c'è una andazza finale, ovvero, di vincere, o perlomeno, di riuscire a fare dei punti preziosi, e speriamo, anche se la vedo molto dura, di, di riuscire a, ad andare finalmente, il V2, detto questo, per ne salutare, vi ricordo, di mettere un mi piace, di condividere il video, e, niente, e soprattutto, come io sempre, iscriviti al canale, si è fatto un discorso che alla fine non tornava, comunque, il zucco è il solito, di tutti i video, alla fine, insomma, via, vi dimetti, se volete mi piace, di dividere il video, e soprattutto iscriviti al canale, ecco, c'ho fatta, scusate, mi sono impappinato, e, niente, via, vediamoci, si è andato a modino, e ora vi saluto, via, ciao, alla prossima, ciao, 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 ciao,